Ti do il benvenuto su SportScience, nella sessione formativa di oggi parleremo dell'allenamento degli addominali in gravidanza. Allora, innanzitutto come si modificano gli addominali durante la gravidanza? Allora, come puoi vedere, questa è un'immagine che rappresenta gli addominali prima della gravidanza, si può notare la linea alba molto sottile. Durante la crescita del ventre, quello che succede è che i retti addominali si aprono verso l'esterno e la linea alba viene stirata notevolmente a causa appunto di questa apertura. Gli obliqui che già quando la donna non è in gravidanza hanno una funzione molto importante nel controllo posturale, durante la gravidanza questa funzione viene enfatizzata ulteriormente, in quanto i retti dell'addome sono neutralizzati dalla loro conformazione, dal loro adattamento alla crescita del ventre. Questo adattamento alla crescita del ventre crea una duplice problematica che spiegheremo strada facendo. Da una parte il fatto che le fibre muscolari siano stirate, siano più lunghe, come se stessero facendo sempre stretching, inibisce il controllo neuromotorio ottimale. Dall'altra parte il fatto che le fibre siano così stirate sottopone fisicamente, meccanicamente, la fibra a stress e questo potrebbe causare delle lesioni e dei danni se il retto dell'addome viene stimolato nel modo non appropriato. Quello che succede post gravidanza è appunto che ci possa essere un distanziamento tra i retti con rottura della linea alba o anche senza rottura, semplicemente diventa più lassa, ma in ogni caso diventa più fragile e il controllo del core si riduce. Quindi questo è quello che succede generalmente durante la gravidanza. Ci vogliono più di sei mesi, ci vogliono circa sei mesi, ma se la donna allatta di più, ci vogliono più di sei mesi affinché il corpo della donna ritorni allo stato di prima della gravidanza. Allora, i retti dell'addome, come abbiamo già detto, si dilatano, quindi si aprono per lasciare posto al bambino. Gli obliqui diventano fondamentali per il contenimento dei visceri e della postura e anche per l'equilibrio, in quanto, come abbiamo appena spiegato, i retti addominali non collaborano o collaborano solo in modo parziale a questa funzione. Per tutti questi motivi gli addominali devono essere tonici prima della gravidanza. Ti sto già dicendo in parte la risposta alla nostra domanda. Ma come si fa l'allenamento degli addominali in gravidanza? La domanda è ma si deve fare o non si deve fare? E pian pianino vedrai che tramite degli approfondimenti risponderemo a questa domanda. Allora, come abbiamo già detto, il controllo neuromotorio è fondamentale. Quindi il fatto che la muscolatura sia stirata non permette ai fusi neuromuscolari, i corpuscoli, i tendini del goggio di dare delle risposte come se fosse la vita di tutti i giorni. Quindi il fatto che il controllo neuromotorio sia deficitario ti deve già dare lo spunto di dire ma faccio fare gli esercizi di equilibrio alla mamma? Come sai il core può essere allenato sotto il profilo estetico con degli esercizi di forza. Estetico è anche funzionale per carità con gli esercizi di forza ma sotto il profilo funzionale e posturale tramite degli esercizi che richiedono il balance, che richiedono l'equilibrio. Ti sto dicendo che la capacità di controllo neuromotorio è deficitaria a causa appunto dello stiramento. È esattamente un parallelismo con il concetto degli ipertoni posturali. Vai a vedere sul libro di ginnastica posturale il concetto di ipertoni, come i fusi neuromuscolari vengono modificati a causa degli ipertoni. Qui è la stessa cosa ma diciamo al contrario in quanto le fibre in questo caso sono stirate e non contratte. Quindi anche l'idea di dire ok non posso allenare gli addominali direttamente, li allenerò indirettamente tramite esercizi di balance non è una buona idea per più motivi. Il primo è quello che stiamo descrivendo, il fatto che la donna, è che questo controllo neuromotorio non sia ottimale. Il secondo è, tu dirai, ma Valentina, ma la mamma col fatto che la pancia cresce, si sposta al baricentro, l'hai spiegato, vai a vedere anche questo argomento approfondito nel webinar, quello della camminata veloce pro e contro, faccio tutta una discussione sullo spostamento del baricentro, quindi l'idea che potrebbe venirti è, se si sposta al baricentro, allora c'è bisogno di allenare l'equilibrio. La risposta è ni, nel senso la mamma non ha il vestibolo, non ha il controllo neuromotorio ottimale per lavorare sul baricentro. Tra l'altro adesso aggiungeremo anche la relaxina, che è un ormone molto importante per quanto riguarda lo sviluppo del feto e per lo sviluppo delle parti che accolgono il feto nel ventre della mamma, che però è un altro aggravante della possibilità di lavorare sull'equilibrio, nel senso che la relaxina predispone agli infortuni, quindi se faccio fare un esercizio di equilibrio alla mamma, le possibilità che lei cada si aumentano, per l'amor del cielo si possono fare mille esercizi alla spagliera, eccetera, però insomma non sono tanto indicate, perché la mamma può cadere, perché non c'è il controllo neuromotorio. E ultima considerazione è, ma perché dovrei allenare l'equilibrio su un corpo che cambia di giorno in giorno e che poi alla fine del ciclo torna a essere il corpo di prima. Cioè, quello che ti sto dicendo è, vai a modificare degli schemi motori di base per niente, nel senso che poi magari la mamma non ha mai lavorato prima sull'equilibrio, lavora adesso, consolida uno schema motorio e poi dopo quando non ha più la pancia non è più in grado di utilizzarlo. Spero di essere stata chiara nell'accompagnarti in questo ragionamento. Poi, se parliamo di fare uno squat, un affondo nel periodo opportuno, tu mi potresti dire, sì, ma quali sono esercizi di equilibrio? Che richiedono tanto equilibrio. Sono d'accordo, ma non è mettere la mamma sulla tavoletta proficettiva, ecco. E anche lì, l'affondo, io alle ragazze che si sono sempre allenate lo faccio fare, lo faccio fare anche con i sovraccarichi, ma quelle che magari non si sono mai allenate lo faccio fare con la mano al muro, con la mano alla spalliera. Quindi mi raccomando, diamo il giusto peso alle cose. This is SportsScience.com, sponsored by ATS.